Un futuro di lotta attraverso il governo delle città e attraverso la partecipazione popolare dei cittadini e degli abitanti. Noi amiamo l'Europa, vogliamo un'Europa unita nelle diversità, ma non amiamo l'Europa dei tecnocrati, delle tecnocrazie, dei poteri forti, delle concentrazioni del potere, della disuguaglianza, che è tanto anche l'Europa degli ultimi anni, quella del fiscal compact, dei patti di austerità, dei vincoli rigidi. Noi vogliamo dal basso costruire un'Europa umana fatta di solidarietà, fatta di dialogo, fatta di amore e di pace e di uguaglianza e giustizia sociale e siccome non abbiamo fiducia che i governi nazionali che sono molto tecnocrati e molto fondanti sulle oligarchie possano cambiare questa Europa e per evitare che prevalgano le derive nazional eversive fasciste vogliamo costruire dal basso l'Europa dei diritti e l'Europa dei popoli. Ci saremo noi, ci sarà Barcellona, ci saranno tante altre città, questa è la vera novità dell'Europa degli ultimi tempi.